Musica Ben trovati anche con la pagina sportiva, il basket in apertura, un'inedita trasferta a Campobasso per Gesam Lemura per difendere il decimo posto. Sentiamo Guido Casotti. Tutto in campo quasi per i 40 minuti conclusivi della regular season. L'ultima giornata porta il Gesam Lemura lontano da Lucca a Campobasso per una trasferta di oltre 550 km e peraltro inedita poiché le molisane erano al debutto in A1. Di fatto la prima realtà sportiva di questa piccola regione è incastonata nell'italico stivale. Nel calcio il Campobasso si era fermato alla Serie B. Ma tornando al basket, quella di sabato sera ore 20 e 30, è gara davvero importante per la squadra di Urlaro, soprattutto in prospettiva play-out. Un conto infatti sarebbe finire al decimo posto, sarebbe diverso e più complicato chiudere in undicesima posizione. Lucca però deve vincere in tal caso anche un eventuale successo di Broni, che ospita Costa Masnaga, sarebbe un'influente. Ma non sarà facile. La magnolia molisana di coach Sabatelli è franchigia di buon livello. Ci sono l'ex Bonasia e Vojta, la play Gorini e la lunga Tikvic e avrebbe meritato anche il play-off. La classifica, che promuove le prime otto alla Pulscudetto, ha quanta nostalgia. Vede Lucca e Broni appaiate a quota 14 punti, mentre Sassari finirà sicuramente dodicesima e Battipaglia tredicesima. Dovrebbe retrocedere Vigarano. E qui sta l'anomalia. Nell'ultima giornata sono state rinviate e non si recupereranno Battipaglia, Raguse e Vigarano San Martino Lupari. Quindi il destino delle Ferraresi del Vigarano, causa peggior coefficiente punti partita, pare segnato anche se al momento manca l'ufficialità. Noi preferiremo, e questo va al di là del periodo particolare che stiamo vivendo, che in caso di parità fosse sempre il campo a decidere. Intanto il pallone a spicchi racconta che all'andata, era il 31 dicembre scorso, Campobasso violò con estrema autorità e brillantezza il pala tagliate, imponendosi 83 a 68 e giocando a tratti anche una bella palla canestro. Fu una partita dominata dalle molisane che gestirono il punteggio del match senza mai dare l'impressione di non poter vincere quella partita. Lucca era reduce sia dalla spinosa vicenda Spreafico che da un periodo durissimo di Covid e incassò la settima sconfitta consecutiva. Tra l'altro la squadra bianco-rossa tornò a giocare nel suo palazzetto dopo ben due mesi ed ebbe nel capitano Maria Miccoli, 14 punti, il suo elemento migliore. Tornano i motori con la seconda prova del campionato italiano di rally. Giulio Del Fiorentino Weekend intenso per il rallyismo italiano. Sabato 10 aprile prenderà infatti il via il 68esimo rally di Sanremo, gara valida per il campionato italiano rally. Oltre all'assoluto la gara Ligure riserverà attenzione anche alla classe N5 Italia, al trofeo tricolore di categoria che si aprirà proprio con il rally in Liguria. Si tratta di una categoria molto interessante che avvicina sempre di più le prestazioni delle vetture produzione alla categoria R. Saranno in gara al Sanremo, dopo le belle prestazioni nella corsa di apertura del campionato italiano rally del Ciocco, anche due equipaggi lucchesi. Il primo è composto da Gianluca Angeli, navigato da Pietro Brugiatiche, in Liguria ritroveranno la Citroen DS3 N5 della Power Brothers. Ancora una volta con il numero 51 con la quale hanno vinto la classe a rally il Ciocco e Valle del Serchio. L'obiettivo dell'equipaggio Garfagnino sarà quello di replicare l'ottima prestazione della gara di casa. Altro sodalizio lucchese in gara al Sanremo è quello formato da Davide Puppa e Cristian Soriani alle note. Equipaggio Garfagnino partecipa alla gara come iscritto al trofeo Suzuki. Dopo il buon esordio al Ciocco, Puppa e Soriani proseguono il percorso di conoscenza di queste vetture iscritte al trofeo. Entrambi gli equipaggi difendono i colori della gnauva alle serchio corse. È tutto anche per lo sport, di nuovo una pausa pubblicitaria, ma torniamo subito dopo con la terza e ultima parte del TG Noi.